eee what day a tutti ciurma e benvenuti raggio green in questa nuovissima devo mettere un attimo muto perché così non se può in questa nuovissima serie su silent hill 4 allora ragazzi prima di incominciare questa nuova serie ho sparso vari sondaggi fra youtube instagram facebook per chiedere appunto a voi se una serie del genere avrebbe potuto interessarvi e a quanto ho visto la proposta è stata accolta con certo entusiasmo da parte vostra e alcuni di voi ci hanno anche tenuto a scrivere un commento al riguardo dicendo mio dio sì per favore faccio una serie sarà interessante sarà figo tutto quello insomma che può rappresentare un certo entusiasmo per cui io vi ringrazio per comunque aver votato e avermi fatto capire che comunque appunto è probabile che guarderete questa serie prima di incominciare ragazzi però voglio portare alla vostra attenzione dei pensieri che mi sono venuti comunque in testa in questi giorni perché sono stata ragazzi non poco a cervellarmi pensando a quello che avrei potuto portare appunto sul canale intanto ci tengo a ringraziare come sempre il mio amico christian che come ogni volta mi aiuta comunque con le difficoltà tecniche e tutto il resto però ragazzi che significa che sono stata a cervellarmi significa che purtroppo ragazzi fare lo youtuber tra virgolette e portare gameplay a volte non è semplice perché non è semplice decidere cosa portare perché ovviamente un certo tipo di gioco magari può interessare solo una certa fetta di pubblico e così via dicendo insomma avete capito a cosa mi sto riferendo e quindi non è stato facile comunque decidere di incominciare una nuova serie anche perché è sempre ragazzi un'incognita come andrà se avrà seguito se avrà riscontro e infatti per esempio ragazzi io avevo proposto il retro game e diversi di voi avevano appunto accolto con grande entusiasmo questa cosa infatti ho iniziato la serie su spyro che però ragazzi dopo solo quattro episodi sto notando con grande tristezza che non è molto seguita mi rendo perfettamente conto che ovviamente il retro gaming magari può essere di non grande interesse per tutti però vi renderete anche conto ragazzi che ovviamente per me mettermi a registrare ad editare magari video di serie che non sono poi così tanto seguite non è molto redditizio diciamo dal punto di vista più che altro ragazzi del riscontro personale tra virgolette nel senso che ovviamente non è redditizio nel senso per me non è senso che non ci guadagno abbastanza perché immaginerete ragazzi che io non guadagno un euro con qualsiasi cosa io faccia sul canale ma non è redditizio dal punto di vista il riscontro personale ragazzi nel senso che comunque se impiego grande parte della mia giornata perché comunque immaginerete che ci si impiega comunque ragazzi qualche ora per poter registrare per poter editare se impiego gran parte della mia giornata per dedicarmi a un video e poi vedo che purtroppo ragazzi viene visto pochissimo commentato pochissimo non mi conviene diciamo proprio così non mi conviene continuare a tenere viva quella serie infatti è molto probabile ragazzi che la serie su spyro si interromperà si interromperà molto presto al massimo farò un altro episodio o due per vedere come vanno le cose però ragazzi non non mi rende non mi rende nel senso che non avendo neanche un minimo di riscontro da parte ovviamente delle persone ragazzi non mi conviene minimamente continuare quella serie quindi io vi spiego queste cose ragazzi perché vi renderete anche conto che questa principalmente è una passione per me perché appunto non posso considerarla un lavoro perché non ho alcun reddito io da questa cosa non non ho alcun ingresso economico quindi è soltanto una passione e per cui l'unica cosa che mi resta tra virgolette è che ci sia un minimo di riscontro ragazzi da parte del pubblico per le cose che faccio e quindi se non ho nemmeno quello non mi conviene comunque come vi dicevo poc'anzi continuare a tenere in piedi certe serie per esempio ragazzi anche gris che sto portando adesso io già prima di iniziarlo sapevo che purtroppo il gioco non se lo sarebbe cagato nessuno a malincuore già lo sapevo perché ragazzi se non lo avete nemmeno cominciato a guardare io vi consiglio comunque di andarvi a recuperare la serie di continuare a seguirla perché ragazzi combatterò fino alla morte per questo perché il gioco è veramente una piccola perla che tutti quanti dovrebbero conoscere per quello che offre e quindi io vi invito comunque di nuovo a seguire quella serie perché ne vale assolutamente la pena però nonostante appunto ragazzi a prescindere sapessi che quel gioco non sarebbe stato seguito praticamente da nessuno comunque la serie la continuerò la finirò perché in quel caso è proprio ragazzi una questione di arricchimento personale quindi per quello che appunto il gioco può dare a me principalmente in questo caso quindi a prescindere ragazzi a testa bassa quella serie la finirò avesse poche views avesse pochi like però ovviamente la serie su spyro ragazzi che fondamentalmente di trama di contenuti di emozioni non è che dà poi tutto questo gran che ovviamente penso che sarò costretta per forza di cosa interromperla quindi ragazzi io adesso inizio questa serie perché ho visto un certo entusiasmo da da parte vostra però ve lo dico ragazzi ho bisogno di vedere il vostro supporto comunque il vostro interesse in qualche modo per cui io vi prego di sostenere almeno con i like se non volete stare a commentare ogni video di sostenere almeno con i mi piace ragazzi questa serie per farmi vedere e comunque continua ad interessarvi e per farmi vedere che siete interessati a continuare a guardarla per cui io vi chiederò ragazzi d'ora in avanti più like di quelli che ho chiesto prima d'ora quindi per questo primo video ragazzi vi chiedo di raggiungere almeno gli 80 like se siete davvero interessati a guardare il secondo episodio perché ragazzi capirete che è proprio una questione cioè mia personale nel senso che se poi l'interesse è scema nel giro di due episodi e vedo che ovviamente ci sono tipo due o tre di voi soltanto ragazzi che mi commentano i video e che ci sono veramente pochissimi mi piace non mi converrà a continuare la serie cioè io spero ragazzi che capiate il mio punto di vista e che non la prendiate come un oddio si sta lamentando perché non se non se la caga nessuno e nessuno guarda i suoi video non è questo ragazzi perché sta succedendo lo stesso con gris e in quel caso insomma diciamo altamente che me ne frego delle poche visualizzazioni perché vi ho già detto un caso di arricchimento personale in questi casi ragazzi io porto gli horror perché so che solitamente interessano il mio pubblico e ho abbandonato layer soffia ragazzi per adesso perché in quel caso veramente sta avendo poco seguito anche se non mi sono riuscita a spiegare il perché quindi ragazzi riassunto della cosa sostenete la serie se non volete con i commenti almeno almeno con i mi piace per favore sostenete questa serie con i mi piace per farmi capire ragazzi di volta in volta di episodio in episodio che vale la pena continuare a fare video su questo gioco per cui in questo primo video vi chiedo almeno 80 like per cui chiudiamo questa enorme parentesi ci tenevo veramente a fare questa intro che comunque sarà stata troppo lunga probabilmente e quindi perché ragazzi silent hill 4 perché questo gioco perché silent hill 4 nello specifico perché mi è stato consigliato in questo caso dal mio amico cristian di fare questo che comunque era un pochettino più recente rispetto per esempio il silent hill per ps1 per ps non so se questo è stato pubblicato per ps2 o che cosa fatto sta perlomeno per non cominciare ragazzi proprio in totale retro gaming il silent hill che era stato pubblicato per ps1 quindi per fare qualcosa di un pochettino più recente e comunque qualcosa di un pochettino magari pure più conosciuto nel senso appunto essendo la saga di silent hill e non so minimamente cosa aspettarmi ragazzi perché io non ho mai giocato un silent hill in vita mia questo è il primo in assoluto già la musica del menù proprio davvero molto molto incoraggiante e mi è stato detto che silent hill può essere un gioco estremamente angosciante per cui vedremo anche se sarò capace ragazzi di riuscire a tollerare il gioco in sé perché ragazzi se non ce la farò poi arriverò un momento in cui interromperò la serie perché non ce la posso fare io proprio a continuare ovviamente ragazzi come difficoltà passatemi il fatto che scelgo la più facile proprio per necessità ragazzi di serie per non complicarmi troppo le cose visto che sto registrando oh merda due anni fa eri townshan si trasferì nell'appartamento 302 di south ashfield heights un palazzo della cittadina di ashfield eri era felice si stava godendo la sua nuova vita proprio semplicissimo mi si chiama harry harry ma da cinque giorni sta succedendo qualcosa di molto strano ogni notte harry fa lo stesso identico sogno mi sono persa l'ultima frase non riesce più a riuscire dall'appartamento 302 ma che mi è stata a di in prima persona oh è in prima persona ma che cazzo ma davvero oh 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 merda non sapevo fosse in prima persona davvero ragazzi cos'è questa stanza come cos'è questa stanza non è la stanza tua allora si sta usa sto usando ragazzi l2 r2 per guardare su e guardare giù la levetta analogica per girare che ho urlato perchè ho urlato perchè che c'è perchè ho urlato ma che cazzo ma non 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 capisco a parte che è monocromatica sta stanza cioè è tutta color merda ma che cazzo di posto sono finita è coperta di sangue e ruggine ma così proprio come se niente fosse proprio per il cazzo questo è il mio appartamento ma che diavolo gli è successo se è coperto di sangue e ruggine come se niente fosse proprio non c'è problema zio questo appartamento ma è davvero il mio appartamento? su e zio se no sai te in condizioni pietose l'aria è così pesante mi fa male la testa ma perchè non apriamo un pochettino ci sono diversi oggetti impolverati qui che diavolo non sono miei perchè non aprire un pochettino la finestra vi sta puzzare in merda che c'è sta qua dentro io mi sto ancora chiedendo ragazzi perchè ha urlato cioè non ho potuto veramente capire perchè cavolo ha urlato mi fa male la testa non ricordo di aver appeso questa foto questa chiesa no 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 stiamo lontani dalle chiese per favore oh oh ah che cazzo ooooooo no 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 eh no 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 allora già non mi sta a piacere più sta cosa la porta è chiusa la chiave non si vuole aprire ok eh no già non mi sta piacendo più perchè eeeh no cioè cominciare a essere già insopportabile adesso e vabbè no raga cioè se 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 il tono è questo io finisco qua la serie già ve lo dico eh un pochettino di frutta qualcosa che puzzo orribile ho paura ad aprirlo oh no 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 per carità guarda no no non voglio riavarmi le mani adesso ma più che altro non voglio riavarmi le mani lì oh 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 per niente fame la mia testa mi duele da che secolo non si usa più il termine mi duele ragazzi eh eh comunque no cioè allora già ho iniziato male l'approccio a sto gioco perchè il tizio ha gridato senza una ragione logica io questa cosa continuerò a chiedermela fino all'ultimo episodio che farò su questo su questo gioco perchè ha gridato un attimo fa continuo a sbagliare continuo a a a a a sbagliare per per guardare su e guardare giù ma non posso cambiare i comandi oddio start ragazzi puoi spostarsi a destra perchè eh no come apro oh come apro il menu di pausa scusate cos'è questa foto è tutta sbedita e non riesco a vederla bene avvicinate un po' no allora già il fatto che la tv stia facendo sto casino non mi piace proprio e ci sono sagome di porte sulle pareti senza un motivo oh mio dio è vero non ci ho manco fatto caso che impressione sembra una faccia io 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 comunque io comunque non avevo cliccato lì non avevo cliccato lì ha fatto tutto da solo è un pezzo di un vecchio libro illustrato c'era una volta un bambino collegato alla sua mamma attraverso un magico cordone buongiorno il cordone fu reciso e la madre cadde in un sonno profondo il bambino rimase tutto solo ma il bambino fece molti amici nella wish house e tutti erano molto gentili con lui il bambino era felice qui è strappato e non posso leggere oltre va bene eh chi è questo tizio e che cazzo vuoi che ne sappia io scusane come vuoi che lo sappia io chi è chi non è la finestra non riesco ad aprirla ammazza io che volevo arrivare già un pochettino alla stanza non voglio neanche sapere che cos'è è una radio cosa vuoi che sia non posso spegnerla da dove è venuta questa grossa tv pensavo di avere un registratore qui eh vabbè eh vabbè possiamo uscire niente cazzi e mazzi eh oddio oh oh oddio che sta succedendo oh oddio no oh oh merda oddio gesù che cazzo sta oddio chi è oddio chi è questo uomo che cazzo oddio 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 no eh sta la larga da me aiuto ma cos'ha cos'ha ma che cazzo sta succedendo è lui Harry oh man oh man what a dream sogno io lo chiamerei più incubo zio era un sogno ma perché in prima persona ragazzi non riesco a capire perché in prima persona non riesco a capire come che c'è che ho fatto forse ho premuto per sbaglio quadrato ragazzi per interagire ma non stavo guardando il telefono comunque né chi chiami chi chiami che premi bottoni a caso babbo natale magari ce lo porta un regalino ce lo porta fuori da qua ancora fuori servizio ma dai chissà perché non avrei mai immaginato che il telefono sarebbe stato fuori servizio va bene non era fuori servizio scusate chi è brondo brondo babbo natale sei tu ti avevo chiamato un attimo fa ma non funzionava il telefono il telefono è staccato ma che cazzo si Harry l'abbiamo visto anche noi Han lo chiamerò Han oh Gesù Giuseppe e pure Maria ma c'è un modo per aprire ah ok la pausa perfetto con Esc sulla tastiera però no mi stavo chiedendo come si salva la partita ragazzi non lo so e spero si possa salvare il prima possibile comunque per cui allora Han ci conosciamo che lavoro fai è un album di ritaglio nuovo di zecca puoi visionare il contenuto dell'album di ritagli premendo il pulsante album di ritagli ci dovrebbe essere ah ok posso aprire ragazzi anche da qui con L3 ti apre il menu va bene chiarissimo album di ritagli non ancora niente cioè quindi che cazzo lo apro a fa giustamente te starei chiedendo oddio sto continuando a sbagliare sto continuando a sbagliare ok allora album di ritagli di che cosa scusa qui ci sono molti piccoli oggetti ma nessuno di particolare interesse va bene possiamo aprire la finestra che pusso un po' di piedi qua dentro oh che bello vedi che c'è una vita normale là fuori va tutto bene il mondo procede che stiamo guardando adizia ho le bozze di fuori eppure è un po' porco Han che fa lì cosa fa cosa sta facendo si stira prima di scendere nella metro e si comporta come una demente ok ma questo è di qualche particolare interesse cioè veramente mi dovrebbe interessare o posso uscire ah posso uscire ma che cazzo oh ok ancora sta chiede questa è una foto che ho chiesto che trovi durante la mia visita a Serentil per qualche ragione sono stato rapito la sua bellezza soltanto la sua bellezza è stato rapito zio ho qualche ho qualche remora allora il fatto che le porte si aprano così ma quante porte ci stanno scusa ma che cazzo ok pensavo di essere di spalle di spalle ma quante porte allora il bagno già il fatto che ci sia il bagno direttamente non mi piace no non mi laverei il viso ma non me lo lavavo prima le mani non me le lavavo nel cos'è la cucina non me le lavo adesso eh comunque ok per spostarmi di lato ma più in lato di così non mi posso spostare vabbè una pisciatina ce la facciamo però qui non c'è niente da fare ah non hai bisogno di urinare o di cacare o di fare cose del genere la normale sala da bagno non le cambiate ora quando trasloccai qui due anni fa ah cioè praticamente a zossura che c'è stata due anni fa ce l'hai lasciata direttamente così l'hai lasciata così ce l'hai lasciato sporco e lurido bravo al sozzone solite cose si trovano intorno a un lavandino niente di interessante vabbè ok ah era ci sparava direttamente la porta del bagno davanti alla faccia e là ragazzi comunque non sapevo fosse in prima a paura dei ladri Harry se no a me spiego tutte quelle cadere zio cioè comunque lui avrebbe dovuto avere una reazione ragazzi adesso no dico io questo bolling grey contenere pare che cazzo rumore è armi alto what the fuck ok ragazzi è una sorta la sorta di cassa che c'è in resident evil va bene ha fatto un rumore che sembrava ragazzi sapete tipo quando se sgonfia il palloncino cioè che lo lasci un po' andare no è stato veramente bellissimo scusa lui non diceva che c'era un registratore qui è strano pochi giorni fa l'alimentazione mi attivò il mio videoregistratore si è interrotta da quando ho cominciato ad avere quegli incubi zio mi chiederei perché tu stai avanti mi interessa davvero sapere cosa ha fatto un tricheco sembra un ritaglio da un libro accidenti sembra scritta parecchio tempo fa prendilo tramite il rito della sacra assunzione lui ha creato un mondo questo esiste uno spazio separato dal mondo del nostro signore più precisamente è dentro ma anche senza il mondo del signore a differenza di quello di nostro signore questo è un monodo altamente instabile porta e muri a sorpresa pavimenti che si muovono strane creature è quello che mi è stato annunciando che ci sarà un mondo che se non li controlla chiunque è ingoiato da questo mondo vi rimane per l'eternità come non morto come uno spirito in una dimensione da incubo come può il nostro signore consentire un tale abominio bella domanda questa parte del libro è troppo danneggiata e illegibile è importante viaggiare leggeri in quel mondo chi trasporta un fardello troppo pesante se ne pentirà il libro è troppo danneggiato per leggere oltre per cui praticamente non ti caricare troppo le palle perché se no poi potrebbe essere un problema ok va bene spiamo pure nelle case della gente ok c'è un pazzo che fa avanti e indietro per la casa fa paura fa paura il fatto di poter guardare fuori dalla finestra le persone che fanno cazzi c'era bisogno di fare questa cosa terrificante per fare il salvataggio ok quindi si salva quando ci sono i quaderni ho capito bene ok quando c'è questo quaderno quindi possiamo salvare la partita va bene questa cosa è Ashfield Hates la faccia del palato mi ha subito attirato anche la vista di questa finestra certo quando traslocai qui due anni fa avverti quasi una sorta di richiamo si richiamo del demonio richiamo maledetto tu sia questa foto mi ha dato a Frank Sunderland il costone qui a South Ashfield Hates che meraviglia tutto quanto veramente non c'è elettricità quindi anche se premo non succede niente va bene ragazzi allora immagino che in questo gioco l'esplorazione sia abbastanza importante vedere tutti i dettagli le cose sui mobili cazzi mazzi una foto di me da bambino quando ho preso la maturità interessante ci facciamo qualche pancake qualcosa di buono non via cucinare adesso eh ma vaffanculo Harry non c'è voglia fare niente che diamine ti lavi le mani non voglia no vabbè niente frigo puzzolente nel studio dicevi che c'era una puzza di morto terribile uh cosa c'è cosa c'è vediamo un po' ci possiamo accucciare in qualche modo no vabbè forse qui c'è del latte al cioccolato perché no eh no che bello latte al sapore di cioccolato molto roll c'era nel frigo di fuori di casa perfetto vino bianco io direi il vino di lasciarlo lì dov'è che cazzo me ne dovrei fare del vino ok queste queste transizioni mi fanno venire mi fanno venire la cagarella ragazzi allora io adesso dovrò capire come si ha l'inventario si apre con r3 questo mi sembra di averlo abbastanza capito però poi per usare gli oggetti questo non posso usarlo qui lo dice se premo triangolo ragazzi non so perché vabbè in ogni caso che cosa ho premuto ok ragazzi spero stiate leggendo perché sono sto leggendo perché mi sta venendo il panico la mia porta è incatenata le finestre sono chiuse è come se non bastasse qualcuno ha incatenato la porta all'interno come farò uscire da qui non uscire Walter no non guarda no hailing galvin dalla porta accanto oh ma zia me senti zia me senti ma parti un cazzo sono richiusa qui con presenze demoniache che non mi fanno uscire emanate sulle pareti poi tutto un programma che cosa è stato oddio gesù oddio gesù voi volete mettere a dura prova la mia la mia tolleranza alla paura veramente a dura prova perché c'è già che musica ho già il salvataggio di per sé è proprio tollerabile che cavolo mi fa venire l'angoscia e il panico ogni qual volta salvo e che cazzo oh ok è stato qui da qualche parte il rumore ma oddio che è successo qua ah no eh una base cittadina turistica certo bellissima oh ma che è successo qua ragazzi è successo qualcosa ma non mi dichiarà nel bagno perché io nel bagno cioè no andiamo in bagno lo sapevo io ma che cazzo ma what the fuck ammazza che bucio le culo oddio no no non ti avvicina oddio non ci guardare dentro oddio 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 più che una via riuscita mi sembra una via d'entrata eh tirare la parte che pende hai un tubo d'acciaio ah arma non molto potente ma abbastanza facile da usare buono come se usa non lo so vabbè ragazzi ma ci devo entrare oddio oddio gesù vabbè allora ragazzi io direi possiamo uscire sì io direi di interromperci qua per oggi perché ovviamente ragazzi la mia intro purtroppo ha allungato di molto il brodo ma direi e daie e tutte le volte di addentrarci ragazzi nel buco di culo infernale più profondo del mondo la prossima volta purtroppo questo gioco già un po' mi ha fatto capire che non sarà facile dico dal punto di vista ragazzi della sopportazione dell'angoscia non sarà facile vedremo fin dove riuscirò ad arrivare questo video termina qui grazie a tutti un bacione e ho potuto lasciare a tutti ragazzi la giocherina ciao